Buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti all'appuntamento con Il Fatto. Oggi parliamo di un convegno che si terrà a Pescara nell'aula Alessandrini del Tribunale il prossimo 28 giugno. Un convegno che ci introduce ad un tema di grande attualità per le aziende ma anche per il mondo del diritto perché inquadra uno dei nuovi temi legati al rapporto tra le aziende, in questo caso anche gli enti pubblici e i rischi che si corrono sul fronte anche delle inchieste e delle possibilità di incorrere nei reati di tipo penale. Lo facciamo con l'Avvocato Francesca Di Muzio. Buonasera, benvenuta, bentornata, che noi conosciamo come fondatrice dell'Associazione Donne, ma comunque parleremo naturalmente anche di violenza di genere tra poco, però questa chiacchierata è dedicata soprattutto al tema del convegno che è la responsabilità penale in questo caso degli enti a fronte dell'evoluzione dei campiamenti e dello stato dell'arte dei MOG 231 e dell'ODV che sembrano degli acronimi ovviamente sconosciuti alla gran parte di tutti noi, però rappresentano la vera novità nell'ambito delle relazioni tra soggetti pubblici o privati, aziende ed enti e i rischi che si corrono sul piano penale, la cosiddetta compliance che rappresenta un po' tutto ciò che deve comportare una tutela per l'azienda per gli enti rispetto a possibili reati, ma anche a situazioni che potrebbero lederla l'azienda dal punto di vista della reputazione. Ma insomma di questo ovviamente l'Avvocato Francesca Di Muzio ci spiegherà nelle vesti di Vice Presidente dell'Associazione Generazione 231 nell'introdurre questo convegno, appunto qual è lo stato dell'arte di questa normativa e che cosa affronterà il convegno di Pescara. Grazie direttore, il convegno di Pescara è un'occasione per fare un punto diciamo dello stato dell'arte nella nostra regione, in Abruzzo che già dal 2011 ha una legge regionale che ha recepito appunto il decreto legislativo 231-2001 che in qualche modo fa entrare nel nostro ordinamento la responsabilità penale dell'ente, quindi l'ente risponde per tutta una serie di fatti specie di reato quando è l'ente stesso nella sua articolazione a commettere appunto un fatto di reato. Questi fatti di reato previsti dall'articolo 231-2001 ci mettono di fronte a quello che è la situazione in Abruzzo, perché in Abruzzo appunto come dicevo è stata introdotta una legge regionale voluta proprio dalla regione Abruzzo che fa in modo che le società pubbliche, le controllate e gli enti partecipati debbano adottare questi modelli organizzativi che sono volti proprio alla prevenzione di questi reati, in linea anche con tutto l'aspetto relativo al contrasto alla corruzione, poiché gli enti pubblici rispondono, partecipati controllati anche a ovviamente tutta una serie di attività che riguardano gli aspetti relativi alle modalità di comportamento dei dipendenti rivolti a prevenire quelle condotte anticorruttive e quindi sono sottoposte al controllo diretto di ANAC, la regione Abruzzo in maniera virtuosa ha adottato in maniera obbligatoria per questi enti e quindi la nostra volontà come associazione che nasce tre anni fa proprio per sensibilizzare il territorio e i vari territori dove noi andiamo appunto a lavorare su questo tema che è quello della compliance aziendale che è un aspetto ampio appunto dell'attività rivolta all'azienda e quella di vedere qual è un po' lo stato dell'arte non solo dell'applicazione in concreto all'interno appunto della nostra regione ma anche in riferimento all'attività della procura, all'attività di quegli organi che procura e guardia di finanza che hanno il compito di andare a valutare se questa attività di compliance adottata dalle nostre società pubbliche in house partecipate e controllate effettivamente rispecchia quanto il legislatore in questo momento richiede alle aziende. Di qui anche la scelta del parterre dei relatori che sono operatori del mondo investigativo, del mondo inquirente quindi le procure e poi anche naturalmente il mondo dell'avvocatura è quello del diritto penale. Assolutamente sì perché la compliance si inserisce all'interno appunto di un contesto di best practice che vanno a tutelare l'azienda dai rischi reato, abbiamo parlato appunto di questo, di numerosi rischi reati che noi ovviamente che la cronaca giudiziaria ci mostrano a cui le aziende sono maggiormente esposte, una fra tutti la salute e la sicurezza. Grande tema dell'implementazione dei modelli organizzativi è quella di andare a tutelare proprio il settore relativo agli incidenti sui luoghi di lavoro e alle lesioni che avvengono in contesti lavorativi laddove spesso si invoca la difficoltà ad attuare un'efficace prevenzione. Il modello organizzativo rappresenta questo, lo strumento per introdurre in azienda quei sistemi di controllo perché noi parliamo di presidi e sistemi di controllo che vanno a mitigare questi reati. Lo facciamo ovviamente con la procura, con la guardia di finanza perché loro sono il braccio diciamo armato di questa legge 231-2001 perché hanno il compito di andare a valutare se le aziende hanno quindi implementato correttamente questi modelli e se non si sono esposte alla commissione di questi rischi tutte le volte che questi incidenti e queste situazioni si verificano. In particolare mi viene di chiederle dopo aver seguito anche personalmente per anni i casi che hanno investito la corruzione in particolare nella sanità ma comunque hanno fatto la storia di questa regione negli enti pubblici nella gestione dei comuni. Spesso quando si arrivava ai processi gli enti pubblici erano o responsabili civili o parti civili o addirittura entrambi. Ecco questa normativa serve proprio a chiarire preventivamente questo ruolo anche accelerare poi gli accertamenti circa il ruolo che ad esempio una ASL quando c'è un caso di corruzione in sanità deve avere nel processo se vale a dire parte lesa oppure complice in qualche modo del funzionario infedele che viene processato. Assolutamente sì perché questa legge serve a determinare chi commette il reato meglio a effettuare un discrimente tra la persona fisica che agisce per proprio interesse personale e quindi in questo caso sarà la persona fisica a rispondere di quel fatto di reato e invece rispetto all'ente che si pone nella commissione del reato per proprio interesse e per proprio vantaggio. Nel momento in cui scatta l'interesse e il vantaggio per l'ente ecco che la procura della repubblica, la guardia di finanza formula il capo di incolpazione perché noi quando facciamo riferimento all'imputazione nei confronti dell'ente facciamo riferimento appunto al capo di incolpazione che va ad individuare proprio l'interesse e il vantaggio diretto che l'ente ha ricevuto. Nel caso dell'esempio della sicurezza sul lavoro l'interesse e il vantaggio per l'ente è un risparmio sull'acquisto di macchinario, il risparmio, il caso della Tissen Group è emblematico, il caso della Tissen Group apre lo scenario della responsabilità penale degli enti e anche quello dell'organismo di vigilanza. Ricordo allora il convegno che si darà nel pomeriggio del 28 giugno nell'aula Alessandrini del Tribunale di Pescara con i saluti del Presidente del Tribunale Bozza, del Procuratore Capo Bellelli, dell'Avvocato Squartecchia, Presidente del vostro Ordine degli Avvocati di Pescara, del Presidente dell'Associazione Generazione 231 Valerio Silvetti, con il Vice Presidente Rizzini che modererà il dibattito, con Annarita Mantini, Procuratrice della Repubblica al Tribunale di Pescara, Antonio Caputo, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Marco Berardi, Dottore commercialista esperto di anticorruzione e naturalmente Francesca Di Muzio, da non perdere non soltanto per gli addetti ai lavori questo appuntamento. Nel parlare del Tribunale di Pescara mi viene in mente il grande sforzo che in particolare la Procura sta svolgendo sul fronte della prevenzione dei reati di violenza attraverso la struttura, è proprio coordinata dalla dottoressa Mantini, relativa ai reati specializzata nei reati del Codice Rosso e dal punto di vista dottrinale c'è una novità che investe proprio Francesca Di Muzio perché anche sul nostro territorio, ma diciamo il suo è un lavoro più di ordine generale, crescono i casi di molestie sul fronte sportivo. Su questo lei sta facendo un approfondimento di tipo dottrinale e se ci può spiegare un attimo il punto della situazione a livello normativo su questo tipo di violenza e spesso è anche più difficile da denunciare per ulteriori ragioni rispetto ai casi diciamo ordinari. Certamente questo spazio è utile proprio per poter approfondire tutta l'attività appunto di contrasto alla violenza che non solo sul nostro territorio ma anche a livello nazionale viene realizzata. In ambito sportivo finalmente abbiamo una grossa novità quest'anno, qual è questa novità? È una novità che investe tutte le società sportive a livello nazionale, le dilettantistiche e tutte le tipologie di società perché il CONI ha deciso di varare delle linee guida per l'adozione di strumenti volti al contrasto delle violenze in generale, delle discriminazioni di genere per i propri atleti, sia essi minori sia essi maggiorenni. Questo significa che emerge un fenomeno, quello della molestia appunto lo dicevamo nel mondo sportivo che è un fenomeno di violenza molto sommerso e poco denunciato. Il CONI si interroga su questo fenomeno nel 2019, vara un decreto legislativo rivolto alle federazioni di adottare queste linee guida, quindi di adottare dei modelli per prevenire questi rischi, questi reati e quindi attraverso la prevenzione di questi rischi chiede alle società di non solo adottare tutta una serie di presidi appunto di controllo andando a diciamo responsabilizzare la dirigenza delle società affinché questi fenomeni non si verificano e possano emergere in quanto chiede alle società non solo di dotarsi di questi codici di condotta, di questi modelli, ma di dotarsi di una nuova figura. Questa nuova figura è il Sefe Guarding Officer che sarà un nuovo diciamo professionista, un collegio di professionisti a disposizione degli atleti maggiorenni e minorenni per denunciare queste situazioni di violenza. Quindi si apre uno scenario molto interessante perché entro il 31 di luglio devono essere adottati questi modelli, deve essere nominato il Sefe Guarding e quindi l'impegno è rilevante anche perché è sottoposto a sanzione da parte del CONI. Questo riguarda tutte le società, non soltanto quelle professionistiche? Riguarda anche quelle dilettantistiche, quindi il grande interrogativo che adesso si pone è quello relativo ai costi di questa attività. Le federazioni già si sono dotate, tutte le federazioni sportive si sono dotate dei modelli anche del Sefe Guarding Officer in maniera collegiale perché all'interno di questa struttura abbiamo anche professionisti delle relazioni di aiuto, psicologhe e psicologi perché questa normativa è rivolta a tutelare le vittime vulnerabili, in particolare i minori, ad evitare la vittimizzazione secondaria e a permettere a questi di poter denunciare tutta una serie di casi di abuso. Nelle linee guida noi troviamo tutta una serie di concetti che richiamano i reati, cyberbullismo, bullismo, abuso fisico, abuso sessuale, molessia, molessia da orientamento di genere, differenza di genere, quindi attenzione, le società hanno degli oneri particolari anche rivolte alle tipologie di vittime che devono andare a tutelare nell'ambiente sportivo, nelle competizioni, nelle gare, in tutti i momenti di convivialità tra atleti e questo impegnerà molto le società non solo nell'adozione ma anche nella messa in arte di questo nuovo modello. Adesso le faccio una domanda, le risponderà sicuramente a questo, la domanda che si fa, il tifoso che va a vedere una partita di calcio, lei sa che il calcio è uno sport di contatto, spesso ci sono anche dei colpi proibiti che vengono fatti in campo tra calciatori, soprattutto tra un attaccante e un difensore che lo marca, come si dice, a uomo, questo termine è facilmente comprensibile. C'è un limite su cui si potrà andare, che non si potrà superare dopo questa normativa in questi contatti e che sui campi avviene di tutto, lei può immaginare, rispetto al corpo dell'avversario. Sì, diciamo che il modello è rivolto, diciamo che questa prevenzione è rivolta chiaramente il riferimento al contesto culturale che avvolge la tipologia di violenza, come discriminazione, come violenza sessuale, come in generale tutte quelle attività che vanno in qualche modo a ledere l'integrità psicofisica fatta volutamente, quindi con un atteggiamento doloso, distinguiamo sicuramente poi ciò che avviene in campo. Certamente se in campo invece ci sono quelle che sono vere e proprie condotte discriminatorie, questa legge, questo sistema va a tutelare anche da situazioni in ambito sportivo che spesso vedono attività di discriminazione nei confronti di determinati atleti, perché questa legge è volta anche a rimuovere la discriminazione di origine razziale, religiosa e quindi tutte quelle forme che in qualche modo noi anche in ambienti particolari come il calcio troviamo in maniera manifestatamente... Sarebbe punito qualunque dirigente sportivo desse un bacio ad una calciatrice come è avvenuto in Spagna, questo è certo. Va bene, grazie, grazie a Francesca Di Muzio, soprattutto vi ricordo l'appuntamento del 28 giugno alle 14.30 al Tribunale di Pescara, la responsabilità penale degli enti, evoluzione, cambiamenti e stato dell'arte dei MOG 231 e del ODV. Grazie, arrivederci e buona serata.